Mega delirio torte, cucina, cakes, tutte le nostre amiche fan della signora Parodi, quella che cucina, non quell'altra, però attenzione abbiamo la soluzione C'è una cosa pazzesca, mai vista, devo dire mai vista, uno stampino, che poi non è uno stampino, è grande come un panettone Naturalmente in silicone per utilizzo alimentare, quindi da mettere in forno, ma qui non fai diciamo un cake, cioè un dolcetto Qui fai una sorta di torta, e sono dimensioni eccezionali, ma in più c'è una novità Nel senso, questa è la parte alta di quella torta, perché sostanzialmente viene un tortino Ma c'è addirittura una guaina che permette di inserire, la vedete qui, adesso vi faccio vedere Permette di inserire in pratica il ripieno, verrà un dolce, una torta eccezionale, non avrete mai visto una roba così enorme Ma naturalmente anche con la possibilità di inserire, avete visto, c'è una guaina apposita per inserire il ripieno che volete Quindi crema di nocciole, di cioccolata, di pasticcera, tutto quello che volete Quindi lo vedete, adesso vedete meglio l'offerta, è una delle tante offerte per cucinare e per divertirsi anche È un'offerta rara, perché particolare, non vedete normalmente assolutamente queste dimensioni E non vedete proprio un prodotto costruito così, per permettere di realizzare al forno Con naturalmente gli ingredienti che volete voi, con i sapori che preferite voi, che preferisci tu Però costruire un tortino così grande, perché è veramente di enormi dimensioni Insomma è 25 volte più grande di un normale stampino da cakes per il forno E naturalmente c'è questa grande novità che infatti voglio ribadire Cioè c'è una guaina apposita che permette anche di creare uno spazio per inserire il ripieno Ripieno fresco, ripieno zuccheroso, ripieno del sapore che preferite Insomma una delle tante offerte sfiziose, simpatiche, nuove, rare, perché sono cose stranette, divertenti, belle, che ti sorprendono Che trovi su Dixa24.com Zero spese di spedizione, allora è il momento di correre su Dixa Cliccare e ordinare questo prodotto straordinario, che naturalmente vi consigliamo, vi aspettiamo Cliccare e ordinare questo prodotto straordinario, che è il momento di correre su Dixa24.com Cliccare e ordinare questo prodotto straordinario, che è il momento di correre su Dixa24.com